Bene, un saluto a tutti i lettori di HDblog, siamo allo stand P2i, un sistema che permette di rendere impermeabili i cellulari, un sistema che al momento è disponibile solo per quanto riguarda la produzione di massa, quindi la collaborazione tra P2i e Motorola o Alcatel ad esempio, ma l'azienda ci ha comunicato che successivamente potrebbe essere disponibile aftermarket. Il sistema funziona semplicemente mettendo un oggetto, qui abbiamo dei semplici tovaglioli, una specie di grande frigo dove tramite nanotecnologia viene permeato l'oggetto all'interno e all'esterno, quindi una copertura completa. Andiamo a vedere come funziona. Abbiamo due fazzoletti apparentemente identici, so che sembra una frase da spettacolo di magia ma non lo è, li metteremo in acqua, vediamo che sono entrambi completamente immersi, questo che è un fazzoletto normale si è bagnato ovviamente, questo che è un fazzoletto trattato non si bagna, come potete vedere l'acqua addirittura viene raccolta in pellicole e scivola via. Voi non potete sentirlo ma il fazzoletto è asciutto, semplicemente basta far scorrere via l'acqua e il gioco è fatto. Vediamo che qua ci sono anche per esempio un telefono immerso nella boccia dei pesci o altri dispositivi. Questa tecnologia la vedremo sempre di più negli smartphone dei prossimi tempi, nel frattempo vi salutiamo, un saluto a tutti i lettori da Iron Mail per H di Blog.